Una lettera al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e al presidente di Arezzo Casa Gilberto Gindalini. La CGL di Arezzo e il Sunia chiedono ancora una volta che si riaccendano i riflettori sulla situazione delle case popolari in via Malpighi e richiedono nuovamente lumi sul futuro del caseggiato e in particolar modo riguardo alla rimozione dell'amianto. Al momento che l'assessore della regione toscana sostiene giustamente dal suo canto che le competenze sono del proprietario e di Arezzo Casa, cioè il gestore, noi assecondiamo questa legittima affermazione e chiediamo il da farsi con un obiettivo molto semplice. La relazione dell'ASL del 2016, di quest'anno, parla chiaro, senza fare terrorismo, dicono che quel tipo di problema va risolto entro tre anni. Quindi a settembre del 2019 quella roba lì non ci può più essere, deve essere sostituita. Ecco, siccome abbiamo visto giocare troppo al rimpallo in questi mesi, non vorremmo che qualcuno pensasse di prendersela comoda e semmai si arriva a fine dei tempi preposti che ancora c'è da fare. Ma non è solamente la presenza di Eternit nelle coperture del tetto del caseggiato a preoccupare CGL e Sunia, ma anche quello che sarebbe presente all'interno dei muri delle abitazioni. Ci sarebbero dei pannelli in cartone amianto, quindi il cartone amianto, a differenza dell'Eternit, che comunque quando questo, tengo sempre a sottolinearlo, insomma, è in buone condizioni o è incapsulato, e non è il caso di Via Malpighi, comunque sia è sicuro, anche se la roba che c'è dentro non è benefica. Nel cartone amianto è molto diverso, lo dice il termine stesso, è dentro le civili abitazioni, non sappiamo quanto ce n'è, dopo tre anni non siamo in condizioni di sapere né quanto ce n'è e né dove è, almeno questo poteva essere fatto, insomma. Lì la situazione è ancora più grave, è più paradossale, c'è semplicemente da prendere dei pannelli, sfilarli e se necessario mettere altri, semmai senza amianto.